buonasera buonasera benvenute e benvenuti a storie lette eh questa sera vi leggerò come avete visto eh un racconto di John Updike eh Updike è stato uno scrittore americano del ventesimo secolo molto importante molto prolifico vincitore fra l'altro di un premio Pulitzer ha prodotto tanto ha sempre prediletto come narrazione la middle class americana è stato anche definito proprio cantore della classe media io mi permetto di dire non solo della classe media americana ma della classe media in generale e lo vedremo nel nel racconto di oggi classe media che ha le prese con un altrove che non è esotico come da convenzione della classe medica della classe media eh partiamo con la lettura il racconto si intitola Marocco ed è stato scritto da John Updike la litoranea saliva scendeva con dolcezza ma rispetto alle autostrade americane era stranamente vuota le altre macchine comparivano minocciose e si avvicinavano come proiettili a cavallo della linea di mezzeria ai margini della carreggiata isolate in tutto quello spazio inondato dal sole bambinette in variopinti costumi berberi offrivano mazzi di fiori che noi non osavamo fermarci ad accettare di che cosa avevamo paura una trappola banditi il rischio di pagare troppo o troppo poco la nostra scarsa conoscenza del francese e l'ignoranza totale dell'arabo del berbero non fermarti papà non fermarti era il grido di prammatica e in effetti quando ci decidevamo a sostare in qualche mercato incuriositi abitanti del luogo emergevano dal paesaggio circostante e si raggruppavano intorno alla nostra reno a noleggio scrutandoci e rivolgendoci inviti inintelleggibili era il 1969 e noi eravamo una famiglia americana residente in inghilterra partita per il marocco nella ingenua convinzione che quella meta in aprile ci avrebbe offerto la stessa autentica fuga verso il sole di un giro nei caraibi dagli stati uniti orientali nello stesso periodo dell'anno ma restinga dove ci aveva mandati un'agenzia di viaggio britannica ignara quanto noi delle realtà climatiche era deserta e ventosa l'albergo costruito di recente per decreto del re progressista e favorevole al turismo aveva una forma semicircolare di notte sbattevano le porte nei corridoi curvi e un guardiano solitario in burnus vigilava sulle stanze vuote e sulla strana famiglia di americani giunti in anticipo sulla stagione di giorno c'erano troppe onde per fare il bagno e il mediterraneo più che essere color del vino aveva la tinta nera del petrolio camminando lungo la battigia ci sporcavamo i piedi di catrame quando poi ci sdraiavamo sulla spiaggia il vento ci soffiava la sabbia nelle orecchie in lontananza venivano assemblati lentamente condomini di calcestruzzo rosa e non mancavano i segni che di lì a un mese villeggianti arrivati chissà da dove avrebbero gremito le derelitte zone commerciali e i negozi sprengati ma per il momento c'era solo il vento sferzante un sole inutile e isolati oziosi e taciturni sullo sfondo gli arabi o si trattava di berberi uomini scuri in ogni caso con ampie vesti lunghe che spaventavano genevieve la nostra bambina più piccola per quanto possa apparire incredibile adesso che è così alta e bella nella sua luccicante tenuta da discoteca all'epoca era una ragazzina sovrappeso di otto anni caleb ne aveva dieci marc dodici e giuditerà una quattordicenne boccio je le regrette beaucoup dissi al direttore dell'hotel di restinga un giovanotto in maglione azzurro che vagava per l'albergo chiudendo le porte spalancate dal vento ma il faut che nous partons trop de vent et pas de bain de mer eh oui trop de vent concordò lui quasi rassicurato nello scoprirci meno folli di quel che eravamo sembrati les enfants sont malheureux aussi ma femme je regrette beaucoup de partir l'hotel c'est beau anete avrei dovuto usare il congiuntivo il futuro e smetterla con quei tentativi di giustificarmi nel mio improbabile francese il direttore accordò con la propria stoica benedizione alla nostra partenza ma spiegò con una valanga di francese finanziario il motivo per cui non poteva rifonderci l'acconto pagato a londra perciò mi ritrovai con pochi contanti una carta di credito della herz quattro figli una moglie e dei biglietti aerei che ci costringevano a rimanere in marocco per altri dieci giorni bene andammo a prendere il pullman per tangere lo aspettammo in piedi a mezzogiorno ai bordi di una strada deserta sei americani smarriti tozzi e vulnerabili nei loro abiti inglesi di lana con le valigie piene di indumenti estivi continentali comprati da lily white e di libri penguin da leggere in vacanza i raggi del sole il vento ci investivano in pieno in entrambe le direzioni la strada si dissolveva in un luccichio roseo non riesco a crederci diceva mia moglie mi viene da piangere non spaventare i bambini cos'altro possiamo fare le domandai non ci sono taxi e non abbiamo soldi ci deve pur essere un'alternativa insiste lei per qualche ragione il mio ricordo di quel momento l'ha immortalata con un berretto blu scuro che le stava malissimo ho paura annunciò genevieva abbracciando lo zaino penosamente rossa e accaldata nello spesso cappotto grigio poppante la schernì la sorella maggiore che attirava gli sguardi dei locali dovunque ci trovassimo e si sentiva dotata di un certo potere il pullman arriverà promise papà scrutando al di sopra delle loro teste il punto di fuga in cui la strada confluiva nella rosea confusione dei nuovi edifici che il re stava facendo erigere con grande lentezza un uomo magro oscuro con un caftano sporco si materializzò dal nulla e ci parlò a lungo in una lingua dal suono nasale protese i palmi delle mani come per farceli leggere papà quel tizio si sta rivolgendo a te disse mark molto imbarazzato allora preadolescente e oggi specializzando in informatica lo so replicai che sta dicendo papà chiese genevieve vuole sapere se questa è la fermata dell'autobus menti lo sconosciuto continuando a parlare si avvicinò rivelando un alito ricco di aromi musulmani spezie del luogo denti marci membrane inaridite da piedi giumi le sue osservazioni divennero più rapide incalzanti ma la luce negli occhi iniettati di sangue si stava spegnendo digli di andarsene il consiglio venne da caleb il nostro bambino silenzioso saggio stoico attualmente al terzo anno della facoltà di zoologia credo che lo farà azzardai e in effetti l'uomo si allontanò scuotendo il capo scheletrito di fonte alla nostra apatica idiozia sollevata la nostra famigliola si strinse in un gruppo più compatto il vento ci soffiava la sabbia nelle scarpe e i corridoi semicircolari dell'albergo abbandonato la nostra unica dimora in quella terra straniera ci ululavano alle spalle come un rozzo strumento musicale dal timbro profondo l'autobus l'autobus per tangeri ci sbracciamo e come se ci sbracciamo e il veicolo si fermò con un incredulo colpo di clacson era dello stesso verde dell'erba avvizzita e mostrava legati sul tetto rotoli di tappeti e polli dentro gabbia di assicelle nell'abitacolo c'erano i marocchini sconosciuti coperti di polvere curvi e pazienti che portavano in capo minuscoli berretti lavorati a maglia e ai piedi minuscole babbucce lavorate a maglia i corpi mescolati ai fagotti le donne a volte in drappi neri alcune con il velo tutte con gli occhi accesi sollevati in allarmato stupore a guardare quell'irruzione di americani grossi paonazzi puerili il prezzo della corsa pochi di ram fu incassato con area evasiva dall'autista che esibiva baffi alla nasser è una mascella adeguata c'era spazio nelle ultime file mentre lottavamo per far passare le ingombranti valigie lungo il corridoio l'autobus sbandò e io ebbi paura che potessimo schiacciare con la nostra massiccia innocenza il fragile veicolo il suo carico in precario equilibrio verso il fondo dell'autobus si faceva sempre più intenso un odore indigeno come di corda bruciata a tangeri scambiamo il pullman barcollante con un unico taxi sovraccarico il cui autista nell'ansia di sbarazzarsi di noi entrò nell'ufficio della herz e cercò di agevolare le trattative il suo aiuto sia l'ode ad allà non fu necessario la targhetta di plastica gialla della herz risolse tutto e se fossi stato in grado di far balenare anche il verde pallido di un american express la nostra corsa piena di suspense lungo la costa da tangeri a rabatta a casablanca e poi attraverso le vie più anguste di el jadida e saouira e tafraut sarebbe stata assai più facile in ogni albergo fummo costretti a implorare l'impiegato perché accettasse un assegno personale emesso da una banca di londra e nessun hotel a parte i più cari era disposto ad assumersi il rischio di qui i bizzarri intermezzi di lusso che punteggiarono la nostra parsimoniosa fuga dai venti del mediterraneo i viali di rabat erano festonati di rosso mentre noi procedevamo verso il centro accantonammo l'idea che gli striscioni scarrati fossero un benvenuto per noi quando quando notammo le falci e i martelli e i manifesti di lenin il sovrano uomo di aperte vedute si apprestava a ricevere una delegazione sovietica di alto livello di cui facevano parte anche consighin e pogorni scoprimmo a lilton della città l'albergo lilton era così gremito di comunisti da non poter ospitare nemmeno i più bisognosi tra i figli della libera iniziativa ma un hotel meno richiesto dai sovietici ci diede accoglienza e a cena affamati fumo messi a sedere in circolo su una pila di tappeti intorno a quello che nella memoria assume le forme di un immenso vassoio di ottone mentre una ridente ragazza scalza camminava in punta di piedi alle nostre spalle spruzzandoci acqua di rose sui capelli mark sollecitato fece la sua smorfia da scimmia riprovamo la sensazione di essere serviti in modo magnifico con un sottofondo di divertimento su un'altra prateria su un'alta e altra prateria che dominava il mare dove dopo chilometri di paesaggio deserto e stomaci vuoti avvistammo un piccolo ristorante poco più di una tettoia reclamizzato da un cartello in legno a forma di freccia parcheggiamo la reno a noleggio e attraversammo il prato con trepidazione in fila indiana sentendoci di nuovo enormi come quando c'eravamo inoltrati nell'autobus odoroso quando vedemmo uscire dalla baracca un uomo che reggeva un tavolo seguito da un ragazzo carico di sedie ci fermavamo in un clima di allegria generale quegli arredi furono disposti sullo spiazzo erboso nel punto che noi indicammo con un gesto spensierato al momento giusto dalla capanna emersero vino riso kebab e coca cola li consumammo di fronte all'atlantico davanti alle scogliere dorate e ai vasti pascoli in cui brucava un solo asino per quanto ne sapevamo eravamo gli unici avventori mai ospitati in quel bellissimo ristorante sul mare persino lungo l'accidentata strada secondo alture pietrose del basso atlante con la spia della benzina che segnava zero e non una casa una pecora o una capra tra noi e l'orizzonte una bimba in una cunetta della pista di terra battuta protese il braccio per offrirci una manciata di fiori in quel tratto il percorso della carrozzabile coincideva con il fondo sassoso di un corso d'acqua asciutto perciò la nostra Renault procedeva ad agio tanto che la piccola quando si rese conto che non ci saremmo fermati ebbe il tempo di frustare i paraurti con i fiori e di gettarli verso il finestrino aperto dell'auto uno o due caddero all'interno e ci piovero in grembo il resto finì sui ciotoli ai piedi della bambina nello specchietto retrovisore la vidi battere un piede a terra con rabbia forse si era messa a piangere aveva all'incirca l'età di Geneviève la quale espresse empatia e tristezza mentre la sua coetanea rimpiccioliva dietro di noi e spariva alla vista a Tafraut Caleb non riusciva a smettere di fissare un uomo così deforme da sembrare un ragno sgaiatolava sul terriccio compatto facendo leva sulle braccia e trascinando in mezzo a esse il corpo minuscolo non chiedeva le lemosi anzi si aggirava come se fosse un personaggio locale di una certa importanza con degli affari urgenti da sbrigare finalmente troviamo il clima in cui avevamo sperato ad agadir lì la spiaggia era ampia ma sebbene il sole il mare fossero caldi a sufficienza quasi deserta cercammo altri vacanzieri per sistemarci vicino a loro e non vedendone nemmeno uno stendemmo i nostri asciugamani poco lontano dalla diga foranea giudith vagabondò a qualche passo da noi impacciata e color bianco perla nel suo bikini raccogliendo conchiglie contemplando il mare a una certa distanza dalla compagnia di genitori e fratelli genevieve caleb si misura a costruire un castello di sabbia marc sicoricò il supino con aria ciliata concentrato sulla propria abbronzatura ci accorgemmo solo in seguito dell'arabo sdraiato a una trentina di metri da noi avviluppato in un'ampia veste con il viso rivolto verso il nostro gruppetto la faccia scura e pentagonale rimase puntata nella nostra direzione l'uomo ci fissava incalzato da qualche silenziosa sofferenza in preda a una congestionata avidità dal mucchetto stropicciato e scorciato del suo abito genevieve caleb si zittirono davanti al loro castello giudith si spostò più vicino a noi nessuno osò avventurarsi sulla riva invitante in fondo alla desolata distesa di sabbia attraversando il muto scintillio dello sguardo dell'arabo in un tono abbastanza sommesso perché i bambini non potessero sentirla mamma mi sussurrò non guardarlo ma quel tizio si sta masturbando era proprio così tra le pieghe del vestito adocchiando giudith e noi mi alzai con le ginocchia tremanti e organizzai una rapida ritirata dalla spiaggia quel pomeriggio stesso individuamo la piscina privata l'ingresso costava appena un dirham in cui tutti gli occidentali nuotavano e si abbronzavano al sicuro dalla cultura circostante nei cinque giorni che trascorremmo ad agadira andammo sempre in piscina splendeva il sole c'era poco vento e avevamo scovato un piccolo albergo gestito da una vicchia da una vecchia coppia di francesi ricoperto di bougainville con un pappagallo nel cortile e un menù all'europea meno di dieci anni prima il 29 febbraio del 60 un terremoto aveva ucciso circa 12.000 persone e devastato gran parte della città ma noi non vedemmo tracce del disastro ad agadir finalmente tornammo a far parte della classe media possedevamo di nuovo denaro contante avevo mandato un cablogramma alla mia banca di londra e loro avevano organizzato uno di quegli accordi tanto amati dagli inglesi con un istituto di agadira la sede della banca aveva una dignitosa facciata di granito costruita dopo il 1960 ma l'atmosfera all'interno somigliava di più a quella di un recinto per bestiame mercanti in abiti da pastori borbottavano aspettando di fronte a una lunga e caotica serie di sportelli e man mano che le transazioni giungevano al termine venivano gridati nomi in arabo quando fu annunciato il mio fu evidentemente specificato anche l'ammontare della cifra trasferita da londra i borbottì cessarono bruni sguardi esterrefatti saettarono verso di me dal gruppo in attesa davanti al bancone ero cresciuto fino a proporzioni immense un portento un mostro di ricchezza arrossendo mentre infilavo le banconote color pastello nel mio logoro portafogli vogli giustificarmi ho dei figli da sfamare riuscimmo a fuggire da gadir dal marocco per un pelo su mappamondo grande come un pallone da basket la distanza che superammo l'ultimo giorno corrisponderebbe alla larghezza dell'unghia di un pollice nell'ufficio della air marocco ci dissero che non c'era posto per sei persone su nessun volo tra gadir e tangeri dove avevamo un albergo pagato per la notte e prenotazioni sull'aereo per parigi della mattina dopo non potevamo fare altro che ripercorrere in automobile il tragitto che avevamo impiegato giorni a compiere 500 miglia 800 chilometri lungo in margine nord occidentale dell'africa partimo all'alba ci eravamo procurati una grossa borsa di arance e delle bottiglie di berriè guidavo io papà un'ora dopo l'altra mamma si rifiutava di prendere il volante in marocco o forse le condizioni del noleggio glielo impedivano voi ragazzi pigiate sul sedile posteriore della piccola reno ve ne stavate in silenzio consapevoli alla maniera dei bambini del vero pericolo della reale emergenza in qualche cittadina minuscola e polverosa forse a safi mi sfuggì un semaforo e attraversai l'incrocio con il rosso e che già un fischio e nello specchietto retrovisore con la stessa nitidezza con cui avevo visto la bambina dei fiori battere il piede a terra scorsi un vigile col casco bianco che annotava con calma il nostro numero di targa la chiazza bianca del copricapo rimpiccioli alle nostre spalle lo sguardo dell'uomo continuava a seguirci mi si strinse lo stomaco ma la strada proseguiva dritta e i pedoni nei polverosi costumi locali continuavano a occuparsi con indifferenza delle loro faccende ancora un giorno e saremmo stati sani e salvi a parigi inoltre il semaforo era piazzato in una posizione assai infelice molto di lato nascosto da alcuni cartelli pubblicitari continuai criminosamente a guidare i maschi di casa acclamarono la parte femminile della famiglia rimase incerta magari si sarebbe limitato a sgridarti un po disse genevieve nemmeno per sogno dissenti marc avrebbe spattuto papà in chissà quale orribile gatta buia infestata dai topi e dai pidocchi io il semaforo l'ho visto aggiunse mamma in tono mansueto e pensavo l'avessi visto anche tu caro grazie a tante feci io con voce meno mansueta io non l'ho visto intervenne caleb il nostro pro consolatore nato maestro nell'arte del compromesso forse era giallo e poi è scattato chi l'ha visto e pensa che sia giallo domandai pieno di speranza l'unica risposta fu il silenzio chi l'ha visto e ha notato di che colore era rosso esclamarono in tre voci ma che cosa volete che faccia che torni indietro a cercare di giustificarmi con quel poliziotto col mio francese no proclamò un secondo coro dal quale mamma si astenne hai già preso la tua decisione disse giudite quasi con accento da adulta premi l'acceleratore papà mi esortò mark eravamo già nella periferia della cittadina non si vedevano automobili della polizia lanciata all'inseguimento i verdi pascoli deserti e la strada liscia e vuota ci reclamavano la lunga lotta per percorrere la costa si ripeteva all'inverso ecco il piccolo ristorante nel prato sulla scogliera ecco il punto dove nessuno aveva voluto mangiare i panini al fegato preparati per noi da un tizio guercio su una cradicola a carbone ai bordi della carreggiata ecco casablanca che non somigliava affatto alle immagini del film ed ecco rabat avevano tolto gli striscioni rossi i russi se ne erano andati ormai era tardo pomeriggio e papà aveva i muscoli del collo indolenziti si sentiva gli occhi pieni di sabbia ed era sicuro che il numero di targa della macchina fosse stato telegrafato a tutte le località della costa attraverso la rete di polizia segreta mantenuta da ogni monarchia da un momento all'altro le sirene si sarebbero messe a strepitare e le autorità l'avrebbero arrestato arrestato e gettato fino al collo nella mara realtà del marocco una realtà che aveva tentato di ignorare rubacchiando il sole e l'esotismo del luogo oppure i poliziotti lo stavano aspettando alla reception dell'albergo di tangeri dopo aver seguito le tracce del suo nome da restinga attraverso una serie di soste di notte fino alla ricevuta firmata alla banca di agadino o magari la scena melodrammatica si sarebbe svolta all'aeroporto manette al controllo passaporti perché non mi ero fermato al suono del fischetto se il mio francese non fosse stato tanto rudimentale forse mi sarei fermato se non avessimo letto pochi giorni prima su una copia di newsweek trovata all'albergo del pappagallo un articolo sugli americani innocenti che marcivano nelle prigioni dell'africa e dell'asia forse mi sarei fermato e se gli stati uniti non fossero stati impegnati in una guerra così insostenibile eppure così inestricabile contro il Vietnam forse mi sarei fermato se non fosse stato per le bandiere rosse a Rabat e per l'uomo che si masturbava sulla spiaggia il mio errore di niego o atto di vigliaccheria continua a sussistere ed è una macchia sui miei ricordi del marocco era buio quando entrammo a tangeri e per arrivare all'hotel bisognava superare un labirinto di biuzia a senso unico ma l'impiegato della reception aveva le nostre prenotazioni debitamente registrate e nessun mandato d'arresto da consegnarmi il re in persona non avrebbe potuto dimostrarsi più affabile con dei turisti il fattorino con i capelli grigi che sembrava Omar Sharif sorrise nell'accettare la mia insalatina di banconote locali i camerieri al ristorante si profondevano in inchini come se fossimo gli unici clienti il che a quell'ora era quasi vero per compiere il tragitto avevamo impiegato quindici ore c'eravamo mangiati tutte le arance e bevuto l'intera scorta di perie l'indomani mattina ci separammo con una certa tristezza della nostra fedele reno che non ci aveva mai tradito e che restituimmo coperta di polvere i dipendenti della herz contro la cui targa era stato commesso un peccato così enorme alzarono a malapena lo sguardo dal conto destinato ad arrivare a londra un mese dopo trasmesso dall'ozono di numeri che ammanta il nostro globo l'avevamo scampata ricordate parigi ragazzi le tuilerie nella fredda primavera dei giardini in boccio ci ci stringevamo ancora gli uni agli altri sul sedile posteriore della reno non c'era posta sufficienza per quattro perciò uno di voi di solito genevieve doveva stare piegato in avanti alitandomi nell'orecchio mamma vicino a me con la cintura lacciata distribuiva acqua e arance e caleb e mark discutevano instaccabilmente su chi stritolava chi judith accanto al finestrino si sforzava di perdersi nelle proprie fantasticherie in marocco avevamo raggiunto il massimo della compressione familiare e da quel momento in poi potevamo solo disperderci siete cresciuti bene siete andati avete assistito al divorzio dei vostri genitori nel decennio successivo è accaduto tutto questo ma su un'alta piattaforma sfolgorante della torre eiffel sentivo che eravamo ancora uniti destinati mi sembrava a rimanere insieme per sempre fin qui il racconto di john abdike prima di lasciarvi io vi ricordo l'invito che vi abbiamo rivolto sulla nostra pagina di inviarci delle vostre proposte di lettura voglio ribadire siccome sia io che michele rigoni non usciamo come tutti quanti voi che siete dall'altra parte di questa camera posso possiamo posso io soprattutto attingere soltanto ai libri che ho in casa non sono tantissimi e non tutti possono essere letti ad alta voce quindi vi invito vi invitiamo a inviarci suggerimenti materiali ma in un formato trasmettibile attraverso internet quindi pdf o altre diavolerie che avrete scogitato vi ringrazio ancora di aver seguito storialette con michele rigoni vi saluto e vi auguro una eccellente serata a presto anzi a domani dimenticavo domani facciamo il primo esperimento di lettura in due parti in due giorni perché abbastanza lungo domani vi proporrò di andrea camilleri autodifesa di caino a domani buona serata